Partita valida sul piano golistico, primo tempo Verona di rivessa, ben disposto Lascoli proteste per un atterramento subito da Novellino lanciato a rete. La ripresa si apre con un Verona ben deciso a farsi valere che stringe progressivamente i tempi e comincia ad andare in gol. Ma vediamole queste reti. La prima è calcio di punizione di Di Gennaro e siamo sull'1-0. Adesso vedremo Tricella in azione, Pesca, Briegel, di piede in tedesco e siamo sul 2-0. La terza rete è realizzata con un'azione personale da Elkir Larsen. Ecco il suo dribbling a girare e poi il gol. Accorcia le distanze per Lascoli, Hernandez sul finire della partita con un bel tiro da lontano di Sardegna.